ragazzi guardate bene questo orologio perché è un'opera d'arte le linee dell'Ebel Air Primero non sono più state replicate perlomeno sono state replicate ma non arrivando alla perfezione di questa cassa in questo caso vi sto parlando di una cassa completamente in oro ma se andate sul mio canale potrete trovare diverse configurazioni di questo orologio ma questa ragazzi un'altra meraviglia il calibro Zenith Air Primero 400 nominato Ebel 134 è una delle due varianti utilizzate per questo orologio l'altra è perpetuale e poi si passa alle modulore che equipaggiano poi il calibro Ebel 137 è un calibro appena revisionato lo potete vedere dalla vivacità dei decori dalla pulizia anche dell'ottone sulle ruote sul volantino del bilanciere che è quasi a specchio e al massimo del suo potenziale e adesso andiamo a vederlo altra peculiarità dell'Ebel Air Primero sono i tasti cronografici i più efficienti della sua categoria innesti brevi per cambi veloci e guardate un po' e poi reset e questi ragazzi sono i risultati in prova guardate un po' una livella che è in realtà del suo potenziale questo è un po' 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 Grazie a tutti.